Gli artigli della Camorra sul nord-est della provincia di Roma. Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sequestrato 44 milioni di euro di beni immobili ed immobili tra Fonte Nuova, Mentana, Guidogna Montecelio, Monte Rotondo, Sant'Angelo Romano e nell'area della capitale, oltre che in alcuni comuni della provincia di Napoli. I beni, si parla di qualcosa come 152 tra fabbricati terreni, 14 autoveicoli, numerosi rapporti bancari, postali, assicurativi ed azioni, erano tutti riconducibili direttamente o indirettamente a Michele Palumbo, Angela Sequino e Francesco Biagio Russo, stretti fiduciari del capoclan Feliciano Mallardo, che figuravano come imprenditori capaci di accumulare un patrimonio sproporzionato rispetto alle modeste dichiarazioni di redditi che denunciavano. I tre sono adesso indiziati di aver organizzato nel Lazio una vera e propria cellula camorristica federata. Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di ricostruire un vero e proprio gruppo imprenditoriale, composto da diverse società, attraverso le quali venivano effettuati molteplici ed ingenti investimenti, principalmente nel settore delle costruzioni edilizie, da qui il nome dell'operazione Domus Aurea, ma anche in quello della distribuzione di combustibile per uso domestico. Il tutto per conto dell'organizzazione malavitosa di stampo camorristico che fa riferimento al clan Mallardo di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Le indagini del GICO, del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, iniziate lo scorso anno, sono partite grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno permesso di ricostruire l'azione del gruppo preditoriale. In particolare, è stato svelato che per dare un'apparenza di legalità agli investimenti effettuati, venivano accesi dei mutui per creare una giustificazione apparentemente lecita all'apporto di denaro liquido. Un sistema che ha permesso a clan di mimetizzarsi abilmente con il tessuto sociale ed economico legale, soprattutto nell'area nord-est romana, dove non si registravano situazioni di particolare allarme sociale connesse alla criminalità organizzata, realizzando in questa maniera un'effettiva commistione tra l'economia lecita e quella illecita.